Si chiama Garrett, ha 32 anni di età e sarebbe accusato di pedofilia nei confronti di bimbi di soli 3 anni. L'uomo avrebbe ammesso di avere eiaculato nella tazza del tè di una donna, lasciando poi che la donna lo bevesse solo per il piacere di umiliarla e al tempo stesso mortificarla. L'uomo avrebbe anche firmato l'atto per intero per andare a testimoniare ciò che aveva compiuto. Il proviere da Barton Appontrent nello Staffordshire sarebbe stato trovato con ben 14.488 foto indecenti di indicibile vergogna di bimbi, anche i 3-4 anni di età, tra cui 1.317 molto molto piccoli di età. All'interno del computer, in altri dispositivi, penne USB e simila. Dopo l'arresto si sarebbe dichiarato colpevole in 13 reati legati al sesso e al mondo sessuale, tra cui anche quelli che avrebbe ammesso di avere adiscato bimbi di nuova età su web, che quali avrebbe fatto addirittura a sesso online. Il pedofilo avrebbe ammesso le accuse di guai e risbo dopo aver inserito diverse telecamere in alcuni spogliatori. Il cliente però soffrirebbe, secondo l'avvocato, di disturbi psichici e sarebbe consapevole di non stare molto bene. Per questo motivo avrebbe chiesto attenuanti generiche in serie di processo, come il metro ci informa diffusamente. Vi ringrazio per l'ascolto. Il video termina qua. Iscrivetevi, se non vi va, commentate. Una storia questa devastante, unica nel suo genere, ma fortunatamente vera, da come si legge nel web.